Assistenza pediatrica richiesta di zona carente straordinaria. Pediatri chiedono l'unificazione degli ambiti, proposta bocciata dai sindaci. Covid nel Salernitano sale il numero dei contagiati, dall'ASL non è allarme. Giovani, nuovo corso per l'Associazione Montepruno Giovani in continuità, avviata la fase di programmazione con gli auguri del direttore albanese. Donne afghane, una storia di diritti negati ad Aversa anche se non ora quando Vallo di Diano. A Padule, a Sassano, la giornata nazionale degli alberi. Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale. Ieri sera a conferenza dei sindaci del distretto sanitario 72, una conferenza chiesta dal direttore sanitario Vastola per annunciare la richiesta di inserimento del distretto tra le zone carenti straordinarie in riferimento all'assistenza pediatrica. Inoltre, Vastola ha invitato i sindaci a decidere sulla proposta presentata dei pediatri di libera scelta di modificare l'attuale suddivisione del distretto e creare un ambito unico, proposta bocciata dai sindaci. Il direttore sanitario Pasquale Vastola nella serata di ieri ha incontrato i sindaci del territorio convocati dal presidente della conferenza dei sindaci Michele Marmo per assumere insieme nuove decisioni in riferimento all'assistenza pediatrica sul territorio. Dal direttore Vastola l'annuncio di richiesta di istituzione di zona carente straordinaria rivolta alla regione Campania al fine di poter accedere alle graduatorie regionali per l'invio di un pediatra di libera scelta sul territorio. Una decisione che, come sottolineato dallo stesso direttore, era già stata assunta dalla precedente direzione in vista del pensionamento di uno dei pediatri di libera scelta che operano nell'ambito del distretto. A giustificare la decisione, secondo quanto emerge, è stato un sostanziale aumento degli accessi pediatrici presso il pronto soccorso dell'ospedale che si è verificato prevalentemente nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, producendo una variazione anche raddoppiata in alcuni mesi per gli accessi in pronto soccorso che manteneva prima una media di 120 accessi mensili. Oltre ad annunciare la richiesta della zona carente straordinaria non molto condivisa dai pediatri presenti, il dottor Pasquale Vastola ha invitato i sindaci ad esprimersi in merito alla richiesta dei pediatri di costituire un ambito unico superando l'attuale suddivisione del territorio distrettuale per i servizi pediatrici in due ambiti, ossia ambito nord e ambito sud. Vastola ha anche sottoposto alla riflessione dei sindaci l'ipotesi di suddivisione in tre ambiti. Abbiamo deciso di fare due ambiti, quindi un ambito a nord e un ambito a sud, ma soprattutto quello che abbiamo concordato questa sera è quello di dare un'assistenza pediatrica soprattutto alle zone del nord e dei paesi dove erano scoperti e quindi che anche questi bambini possano essere assistiti dal pediatra. E soprattutto perché noi vogliamo garantire a tutti sul territorio l'assistenza pediatrica che penso che i bambini abbiano questo diritto di essere assistiti. Questa sera il direttore sanitario ci ha anche dimostrato gli enormi eccessi che arrivano in pediatria e quindi con una buona pediatria di base, ma come già la pediatria di base funziona benissimo perché ci sono dei pediatri che svolgono la loro professione in modo molto professionale e quindi diciamo che sotto questi aspetti siamo coperti. Adesso il problema è quello di trovare la quadra come dicevo prima per quanto riguarda la copertura di tutto il territorio perché con il pensionamento del dottore Caggiano si è creato un po' di falla e quindi a questo dobbiamo sopperire. Il direttore sanitario mi sembra che abbia già chiesto la zona carente per fare l'integrazione con un nuovo pediatra e quindi penso che a questo punto dovremmo essere coperti. I primi cittadini quindi, come confermato dal presidente Marmo, hanno optato per l'ipotesi di mantenere l'attuale suddivisione in due ambiti per l'assistenza pediatrica, ossia ambito nord costituito dai comuni di Teggiano, San Rufo, San Pietro Altanagro, Sant'Arsenio, Polla, Pertosa, Caggiano, Auletta, Salvitelle e Petina ed ambito sud di cui fanno parte i comuni di Atena Lucana, Sala Consilina, Sassano, Monte San Giacomo, Padula, Monte Sano sulla Marcellana, Casa Albuono, Buonabitacolo e Sanza. Andiamo avanti. Sale il numero dei contagiati nel Salernitano. Dall'ASL assicurano che la situazione non è allarmante e invitano a fare la terza dose di vaccino che, trascorsi sei mesi dall'ultima somministrazione, in Campania o riaperta a tutti, senza limiti di fasce di età o di categorie, ci si può rivolgere direttamente i centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Il responsabile Covid dell'ASL, Saggese Tozzi, fa il punto della situazione. Ascoltiamolo. Siamo davanti a un leggero incremento di positivi. Diciamo che noi negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, da 100 al settimana di positivi che c'erano la settimana precedente, nell'ultima settimana siamo a 150 al giorno, più o meno. Cosa importante però è che tutti questi nuovi positivi o questi positivi che stiamo avendo sono positivi che stanno per lo più asintomatici o anche se sono sintomatici stanno a casa. In ospedale ieri abbiamo ricoverato due persone dei 184 e non in terapia intensiva. Questo vuol dire che la copertura vaccinale, la protezione vaccinale, sta producendo effetti importanti. E per questo tutti quelli che hanno fatto il vaccino da più di 181 giorni, cioè da più di sei mesi, si recassero subito a fare la terza dose presso i nostri centri vaccinali. Sono tutti aperti, gli orari sono sul sito dell'ASL. Rinforzare la protezione immunitaria di tutta la popolazione ci permetterà di reggere anche questa nuova ondata che, come tutte le malattie a trasmissione aerea e in periodo invernale, c'era da aspettarselo. Situazione scuola, dottore Saggese, diciamolo, nessuna scuola salernitana è stata chiusa. Questo è importantissimo, questa notizia. Le scuole in questo momento continuano a funzionare tutte quante. Ci sono dei cluster in alcune classi, si blocca l'attività, l'azione solo in alcune classi, in alcuni contesti. Il monitoraggio che stiamo facendo nelle scuole con i tamponi salivari ci sta dando una buona risposta. Non c'è circolo di virus tra i ragazzi perché i dati sono tutti negativi. Abbiamo avuto su oltre 800 tamponi un solo caso positivo. Però ci dice anche un'altra cosa molto importante, che nel momento in cui siamo casi stretti di persone positive, cioè se la mamma è positiva, il fratellino è positivo, bisogna starsene a casa, non bisogna andare a scuola. Non bisogna fidarsi del tampone fatto all'ultimo momento, negativo, andiamo a scuola. Diventa un focolaio, si innesca un focolaio che può diventare molto pericoloso. Le attenzioni che le scuole stanno mettendo nella gestione di queste situazioni funzionano, ma dobbiamo mettere le stesse attenzioni anche fuori. Mi raccomando, feste, festicciole, agiamo con mascherine, con protezione, lavaggio delle mani, distanziamento. Quando c'è aggregazione e affollamento può circolare il virus e possiamo avere dei positivi e i positivi possono trasmettere e infettare, specialmente in ambienti dove la maggior parte delle persone non sono vaccinate, come è l'ambiente scolastico, ma non sono vaccinate per età, perciò non dobbiamo colpoipolizzare nessuno in questo senso. Altra cosa molto importante, mi raccomando, per vaccinarsi, non pensiamo al dosaggio immunitario per scegliere di andarsi a vaccinare. E' sotto l'aspetto anche una vera inappropriatezza prescrittiva e un dispendio di risorse inutili. I meccanismi vaccinali si muovono sulle tempistiche dalle precedenti vaccinazioni. Dopo 6-8 mesi la copertura immunitaria di questi vaccini si riduce, si abbassa, è necessario fare il terzo rinforzo definitivo. Questo è l'invito alla dose booster che stiamo facendo. Rechiamoci senza bisogno di fare nessun monitoraggio immunitario. Rechiamoci, sono passati 181 giorni, andiamo a farci vaccinare. Poi, se l'anno prossimo avremo bisogno di altro vaccino, sarà un altro, non sarà più questo. Cambiamo argomento. Dal mese di ottobre 2021, il Comando Provinciale di Salerno ha disposto una fitta serie di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del cosiddetto lifting chilometrico su auto usate e messo in vendita negli autosaloni della provincia. L'attività investigativa ha interessato i comuni di Salerno, Sapri, Agropoli, Vallo della Lucania, Sala Consilina, Eboli, Battipaglia, Mercato San Severino, Nocele Inferiore e Amalfi, controllando oltre 100 rivendite, i titolari di alcune delle quali è stato contestato il reato di frode in commercio. Sono state denunciate alle competenti autorità giudiziarie, sei soggetti operanti nei comuni di Cava di Tirrenica, Stelnuovo Cilento, Tramonti o Levano sul Tusciano, tutti i titolari di autorivendite di vetture e sono stati sequestrati tre veicoli. Proseguendo il rapporto delle Ecomafie, dice che la Campania è la prima in Italia, mentre Salerno seconda nella regione e quarta nel paese, costanti e diffusi i reati nel ciclo dei rifiuti e nella distruzione dolosa del patrimonio boschivo. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. La provincia di Salerno è seconda a Napoli per numero di reati ambientali, ma quinta a livello nazionale secondo quanto emerge dal rapporto sull'ecomafia redatto come da Tradizione delle Cambiente, che mette in classifica le province italiane in base al numero dei reati ambientali. Salerno è addirittura seconda a livello nazionale se si considera la classifica degli incendi scoppiati nel 2020, 335 tra dolosi, colposi e generici. La provincia di Salerno supera così Cosenza che si conferma prima provincia d'Italia. Nel ciclo dei rifiuti la Campania piazza ben quattro province nelle prime sei posizioni. La più colpita a livello nazionale è Napoli con 522 infrazioni. Segue Caserta mentre la provincia di Salerno è al quarto posto con 227 infrazioni. Sesto posto per Avellino chiude la provincia di Benevento con 57 infrazioni. Nel ciclo del cemento ancora primato negativo per Napoli che svetta a livello nazionale con 368 reati. La provincia di Salerno si piazza al terzo posto con 266 infrazioni, ma per la provincia di Salerno è un risultato positivo perché l'anno scorso era prima. Scende al sesto posto la provincia di Avellino con 214 infrazioni a ruota segue Caserta e poi Benevento. In generale la Campania si conferma la regione dell'ecomafia a livello nazionale. A livello provinciale la maglia nera per illegalità spetta sempre a Napoli. Il business dell'ecomafia ha dichiarato Maria Teresa Imparato presidente Legambiente Campania minaccia gravemente il futuro della nostra regione. Non si deve assolutamente abbassare la guardia ha dichiarato il vertice di Legambiente e invitando a spendere le ingentissime risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza proprio in questa direzione. Non c'è più tempo da perdere. Ieri a Sant'Arsenio doveva tenersi il Consiglio Comunale ma è mancato il numero legale spiegano dal gruppo di opposizione si cambia. Il sindaco raccontano in una nota stampa non solo non ha una maggioranza solida come si poteva facilmente dedurre dalle varie defezioni all'interno della sua squadra in questi 4 anni ma non ha nemmeno i numeri per portare avanti le normali attività amministrative. Inoltre continuano per mascherare le difficoltà sempre più evidenti questa maggioranza ha sfruttato e continua a sfruttare l'emergenza pandemica ed è l'unico comune nel comprensorio che continua a convocare le sedute di Consiglio Comunale in modalità mista. I consiglieri possono infatti essere presenti in aula o collegarsi online nonostante ci siano le condizioni e gli spazi per garantire in totale sicurezza lo svolgimento in presenza delle riunioni consigliari. Questa modalità è solo una scusa per evitare che la probabile assenza di anche un solo consigliere possa mettere a nudo le pecche e le carenze di questa amministrazione. Auspichiamo che i prossimi consigli comunali si svolgano in modalità normale perché concludono non intendiamo tollerare le furbate di un sindaco che ha paura di confrontarsi con le criticità del suo operato. Proseguendo, individuare varie professionalità a cui affidare l'incarico di predisporre i progetti per accedere alle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Consorzio Piano Sociale di Zona ha pubblicato l'avviso per la costituzione di una short list di giovani professionisti a cui affidare gli incarichi. Un'importante opportunità lavorativa per i giovani laureati arriva dal Consorzio Sociale Piano di Zona Vallodidiano Tanagro Alburni presieduto da Vittorio Esposito che ha deciso di condividere e supportare l'idea progettuale elaborata dal direttore Antonio Florio. È stato pubblicato un avviso permanente finalizzato alla costituzione di una short list per la formazione e l'inserimento professionale di giovani laureati afferenti a diverse sezioni. L'idea nasce in virtù delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Consorzio, attraverso la short list, individuerà le figure a cui affidare incarichi professionali per le progettazioni sulle misure previste dal PNRR. Sono ben 15 le sezioni di riferimento a cui è possibile candidarsi. Le candidature alla short list redatte in modalità online nella sezione dedicata sul sito www.pianosociales10.it potranno essere presentate entro una prima scadenza fissata per il 17 dicembre 2021 con successive riaperture dei termini dove è disponibile anche l'avviso con le indicazioni relative all'iscrizione. Le domande pervenute secondo le modalità descritte nell'avviso saranno esaminate dalla direzione che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento. Nella short list saranno inseriti i candidati in possesso di adeguato profilo curricolare in applicazione dei criteri specificati senza graduatorie. L'elenco degli ammessi sarà reso pubblico. È una grande opportunità da cogliere per il territorio, dichiara il presidente Vittorio Esposito. I fondi del PNRR sono necessari per il superamento delle difficoltà stratificate negli anni e che necessitano di interventi puntuali. Un lavoro importante programmato dal direttore Florio per il quale ci aspettiamo la partecipazione dei migliori professionisti del territorio capaci di interpretare al meglio la visione di crescita e sviluppo che necessita il comprensorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Non possiamo e non vogliamo sprecare questa opportunità, continua Esposito, per strutturare i servizi necessari al superamento delle difficoltà e delle carenze nell'ambito sociale presenti sul territorio. È una nuova stagione questa. È la stagione della ripresa, della ripartenza. Abbiamo l'obbligo di essere pronti e capaci. Questo è il nostro obiettivo. Nei giorni scorsi il nuovo direttivo dell'Associazione Montepruno Giovani si è riunito per la prima volta per dare inizio alla fase di programmazione delle iniziative a sostegno dei giovani. Una prima riunione a cui si è unito anche il direttore generale della Banca Montepruno per lasciare gli auguri di un buon lavoro ai ragazzi. Vediamo il servizio. Il nuovo direttivo dell'Associazione Montepruno Giovani sotto la guida del neoeletto Presidente Sebastiano Greco ha dato il via ufficialmente al nuovo corso che li vedrà sempre in campo a sostegno dei giovani vicino alle ambizioni, ai sogni, alle necessità dei ragazzi che vivono nell'ampio territorio su cui opera la Banca Montepruno, istituto di credito che sostiene ogni attività messa in campo dai ragazzi dell'Associazione. Nei giorni scorsi il nuovo direttivo con il Presidente Sebastiano Greco e l'ex Presidente Antonio Mastrandrea si sono riuniti per la prima volta per programmare le attività. Una riunione che si è aperta con la presenza del Direttore Generale della Banca Montepruno Michele Albanese che ha voluto salutare e congratularsi con i nuovi componenti del direttivo, augurare loro buon lavoro, ma soprattutto manifestare ai ragazzi e le ragazze dell'Associazione la sua fiducia ricordandogli l'importanza del compito che gli è stato affidato. Un impegno che il nuovo direttivo è pronto ad assumersi e che già nella prima riunione ha dato prova di voler portare avanti quel percorso già tracciato da chi li ha preceduti sotto la presidenza di Cono Federico e a seguire Antonio Mastrandrea con il nuovo Presidente Greco che ha voluto ringraziare la Banca Montepruno per il sostegno e il supporto che offre i giovani in generale attraverso l'Associazione Montepruno Giovani. Abbiamo svolto il primo di tanti direttivi che seguiranno dichiara Sebastiano Greco. Insieme ai ragazzi stiamo definendo il programma delle attività da portare avanti. Ringraziamo il CDA della Banca Montepruno per la disponibilità all'interesse e il forte sostegno riservato all'Associazione. Antonio Mastrandrea per la disponibilità e il costante impegno nelle attività e soprattutto il direttore Michele Albanese è sempre attento alle nostre iniziative proponendoci spunti di riflessione consigli e suggerimenti preziosi che si trasformano in iniezioni costanti di entusiasmo e fiducia. Ci aspettiamo continua il presidente Greco tanto interesse e partecipazione dei numerosi giovani associati. Il nostro obiettivo è renderli parte attiva di un progetto che non avrà protagonisti ma tanti attori al centro di un'azione che dovrà vedere la Montepruno Giovani come un vero e proprio punto di riferimento per le giovani generazioni del territorio. Andiamo avanti Donne afghane una storia di diritti negati è il titolo del convegno che si è tenuto ieri ad Aversa nel Casertano e a cui hanno preso parte in qualità di relatori anche il giornalista Lorenzo Peluso autore del libro Di là dal fiume il mio Afghanistan e Rosi Pepe presidente del comitato se non ora quando ballo di Diano. Donne afghane una storia di diritti negati il titolo del convegno che si è tenuto ieri ad Aversa nel Casertano su iniziativa delle locali Fidapa Lions Soroptimist con l'obiettivo di mantenere accesi i riflettori sull'Afghanistan definito il luogo peggiore in cui nascere donna. A relazionare sul tema Domenico Pauciulo professore della LUIS Guido Carli Lorenzo Peluso giornalista e autore del libro di là dal fiume il mio Afghanistan e Rosi Pepe presidente del comitato se non ora quando ballo di Diano. C'è stata poi la testimonianza del colonnello dell'esercito italiano comandonato sud Europa Valentino De Simone che ha offerto l'occasione per fare il punto della situazione in terra afghana a circa tre mesi dal ritorno al potere dei talebani. In Afghanistan interessi nazionali e internazionali economia appartenenza etnica religione estremismo si mescolano e rendono precaria la vita della gente comune regole e ruoli sono stabiliti e opprimono ogni anelito di libertà le bambine e le donne sono inevitabilmente le più esposte è un cammino arritroso che la condizione femminile sta vivendo in quest'ultimo periodo il comitato se non ora quando valodidiano affiliato alla rete antiviolenza reama nata dall'impegno della fondazione Pangea per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e quella assistita e subita dai minori ha portato alla testimonianza dell'impegno messo in campo dalla fondazione Pangea in vent'anni di permanenza in Afghanistan un impegno che continua anche oggi in quella terra martoriata per rivendicare che i diritti delle donne non siano argomento di negoziazione né retrocedano rispetto a quanto era stato conquistato quando avverti che la platea dei presenti è particolarmente interessata all'argomento trattato ossia i diritti negati delle donne raccontano dal comitato se non ora quando calibri meglio il tuo intervento perché vorresti che si metta in ascolto anche il loro cuore così da generarsi una particolare empatia ti accorgi di esserci riuscita alla fine del convegno quando le persone si avvicinano per chiedere ulteriori chiarimenti sull'impegno che la fondazione Pangea ha profuso e continua a mettere in campo in Afghanistan allora comprendi di essere riuscita a balicare il muro delle migliaia di chilometri che separano Aversa da Kabul creando consapevolezza sulla condizione delle donne in un paese che non ha torto e considerato il luogo peggiore al mondo dove nascere femmina ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie restate con noi ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale appuntamento il 21 novembre a Padule a Sassano per la giornata nazionale degli alberi prevista la messa a dimora di nuove piantine I comuni del Vallodidiano si preparano a celebrare la giornata nazionale degli alberi istituita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta dalla legge numero 10 del 2013 la giornata ha lo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi ogni anno dunque vengono promosse iniziative volte ad incrementare la presenza del verde nelle cittadine tra le celebrazioni programmate nel Vallodidiano ci sono gli eventi previsti a Padula con la consegna degli alberi ai nati nel 2020 e a Sassano con il dono di 100 alberi ai bambini dell'infanzia l'appuntamento è il prossimo 21 novembre a Padula a promuovere l'iniziativa e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michela Cimino in collaborazione con tra gli altri l'Ordine dei Frati Minori al Convento di San Francesco alle 9.30 è prevista la collocazione della tabella con QR code al Tiglio e la benedizione degli alberelli con la consegna ai nati nel 2020 a seguire alle 11 si terrà la Santa Messa cantata dal maestro Pietro Di Bianco e alle 12.30 la piantumazione degli alberi in Viale della Certosa giornata dedicata al verde e ai bambini anche a Sassano dove il comune donerà 100 alberi ai bambini della scuola dell'infanzia appuntamento al municipio dalle 10 alle 13 piantiamo il nostro futuro e lo slogan scelto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino per la giornata che prevede la consegna delle piante da parte di Lello l'Alberello l'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid Alvia la convenzione per la fornitura di segnaletica stradale verticale complementare orizzontale alle amministrazioni comunali campane vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio Sorresa S.p.a ha espletato una procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura di segnaletica stradale in favore delle amministrazioni a 20 sede nel territorio della regione Campania oggetto dell'accordo è la fornitura di segnaletica stradale verticale complementare e orizzontale i singoli contratti di fornitura saranno conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella convenzione quest'ultima avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione periodo entro il quale le amministrazioni interessate dovranno emettere i cosiddetti atti di adesione la predetta durata potrà essere stesa su richiesta scritta da parte di Soresa di ulteriori 12 mesi in caso di incompleta utilizzazione dei quantitativi massimali posti in gara invece la durata di ogni contratto sarà di 36 mesi e durante il periodo di validità dello stesso le amministrazioni contraenti tramite specifiche richieste di consegna potranno richiedere l'esecuzione delle prestazioni cambiamo argomento partito da Sanza sta riscuotendo grande successo a livello nazionale lo chef Francesco Cozza sulla sua carriera e le sue doti una recensione sul web magazine Report Gourmet vediamo successo nazionale per lo chef di Sanza Francesco Cozza il web magazine di enogastronomia e selezione delle eccellenze Report Gourmet ha infatti dedicato una recensione alla sua carriera e alle sue doti Francesco Cozza classe 1982 nato in Germania è cresciuto nel suo paesino a Sanza ha studiato all'istituto alberghiero di Maratea come tecnico dei servizi della ristorazione dall'età di 16 anni lavora in diversi hotel e ristoranti anche fuori l'Italia negli ultimi anni si è stabilito in Alto Adige propone piatti genuini nostrani come si legge nella recensione in cui i commensali possano riscoprire i sapori di un tempo soprattutto nella realizzazione di paste fresche dove ritrova anche le sue origini valdianesi l'intento che persegue è quello di realizzare piatti che siano in grado di trasmettere l'amore con cui sono stati ideati e poi realizzati che conservino la purezza delle materie prime usate Francesco ha introdotto la sua filosofia di promozione dei prodotti locali offrendo un pasto dove questi si fondono con le sue origini mediterranee lo chef di Sanza ha anche intrapreso un progetto personale e aziendale che include la realizzazione di un orto biodinamico uno spazio verde conclude la recensione che gli consente di offrire prodotti che l'industria ha purtroppo omologato Francesco Cozza è dunque diventato una star della cucina molto amato nella sua comunità per la semplicità e la grande educazione appena può rientra a Sanza dove abita ancora la sua famiglia un orgoglio il talento di questo giovane che tra l'altro non manca mai esprimere idee e visioni per il futuro turistico di Sanza ha commentato il vice sindaco Antonio Lettieri un giovane di grande valore di cui andiamo orgogliosi un esempio senza dubbio di abnegazione e amore per il lavoro ma anche di attaccamento alle sue origini siamo orgogliosi di lui e della sua splendida carriera ha concluso il vice sindaco Lettieri e con questo servizio si conclude questa edizione serale del nostro telegiornale io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti